La città di Pescara si unisce nel dolore alla comunità di Rosciano nel giorno dell'ultimo saluto a Christopher Thomas Luciani. Mentre ci si interroga sul perché e lo strazio ancora troppo forte, oggi pomeriggio si terranno i funerali del sedicenne ucciso barbaramente con 25 coltellate nel parco Baden Powell domenica scorsa in centro a Pescara. Di quell'omicidio sono accusati due suoi coetanei. Mentre emergono nuovi tasselli sul fronte giudiziario, oggi pomeriggio l'addio a Rosciano, suo paese di origine, nella chiesa dell'assunzione della Beata Vergine Maria, alle ore 17. Sarà il vescovo di Pescara Penne Valentinetti con il parroco Don Marco Spadaccini a celebrare i funerali. Il sindaco di Rosciano, Simone Palozzo, ha disposto il lutto cittadino per la giornata odierna. In segno di vicinanza, anche a Pescara, il sindaco Carlo Masci ha firmato un provvedimento per il lutto cittadino. A partire da questa mattina e fino alle 18.30, esposizioni delle bandiere a mezz'assa, nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici. Ai titolari di attività commerciali e ai pubblici esercenti viene chiesto poi di non porre in essere, dalle 16.30 alle 18.30, in concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre, comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino. Fermarsi è doveroso, dice Masci, come testimonianza del cordoglio non solo della nostra città, ma della nazione, in segno di rispetto per la famiglia e per gli amici di Christopher, e anche per riflettere in maniera profonda e responsabile su ciò che è accaduto. E se è stato chiuso per un paio di giorni, riferisce all'assessore Santilli il parco Baden-Powell per il via vai di Curiosi, per Crocs, così gli amici che amavano Christopher, Fiori e Piglietti sono stati posti davanti alla rete che separa il parco dall'area di vegetazione e sterbaglia in cui il ragazzo è stato assassinato. A portare questi piccoli omaggi sono stati soprattutto tanti giovani, profondamente colpiti da una vicenda che ha sconvolto tutti, rimescolando dubbi e paure di generazioni diverse. Oggi pomeriggio tanti di quei giovani si stringeranno attorno a nonna Olga e si ritroveranno a Rusciano per l'ultimo saluto, con il ricordo di quel ragazzo per il quale la vita non è stata semplice, senza l'opportunità di un riscatto e di un futuro che dovrebbe essere concesso a chi ha appena 16 anni e perché restano comunque tanti.